Sarà il Bologna la prima squadra che la Sertana affronterà nel prossimo campionato di Serie A che comincerà nel weekend del 22 agosto. La sfida è in programma allo stadio Dall'Ara, quindi Granata contro uno degli ex della Serie A del 98-99, Marco Di Vaglio, che è il club manager della formazione Felsini e che nell'ultima stagione in cui la Sertana ha militato in Serie A fu il capocannoniere della squadra allenata prima da Rossi e poi da Otto. Prima partita in casa nella tornata successiva contro la Roma di Murigno, lo Special One, che dunque arriverà subito allo stadio Arechi. Poi le partite più attese, il derby con il Napoli il 31 ottobre e la settimana successiva la sfida con la Lazio di Lottito e di Sarri. Poi un mese di dicembre particolarmente impegnativo con le sfide contro Juventus, Milan ed Inter, chiusura sia all'andata sia al ritorno contro l'Udinese, ed è un po' questa la curiosità, visto che i due gironi andati e ritorno sono asimmetrici, con l'Udinese la Sertanitana giocherà sia all'andata sia al ritorno alla diciannovesima ed ultima giornata. La prima di ritorno invece la Sertanitana giocherà in casa contro il Venezia. Grazie a tutti.